Non succede che si va subito a votare, almeno quella non è la prima opzione, perché organizzare le elezioni è complicato dal punto di vista logistico, dal punto di vista economico, è costoso, devono essere rispettate certe regole, serve un certo numero di giorni di campagna elettorale, il Presidente della Repubblica deve essere nei pieni poteri, non deve esserci la luna piena, no scanzo questa me la sono inventata. Comunque se il Parlamento è ancora in carica, perché è stato votato, è stato eletto, come è successo a noi nella primavera del 2018, quello che succede quando cade il governo, come hai visto quando è caduto il governo Conte, è che si avvia un altro giro di consultazioni, i rappresentanti dei partiti tornano dal Presidente della Repubblica, si cerca di trovare un accordo, una quadra, come si dice, su un nome di un primo ministro che possa raccogliere il più ampio consenso possibile e permettere alla legislatura di andare avanti. Ovviamente il Presidente della Repubblica ragiona sulle proposte che gli vengono fatte, se, che ne so, Fratelli d'Italia e Liberi e Uguali decidessero di formare un governo insieme, così solo per opportunità per mandare avanti il governo, per andare al potere, tra virgolette, è chiaro che sarebbe un governo che durerebbe poco, perché ai primi problemi il governo cadrebbe di nuovo. Quindi si cerca di trovare un consenso su un nome che possa raccogliere il più ampio numero di forze politiche possibile, come è successo per Draghi dopo che è caduto il governo Conte. Te lo dico perché nel 2022 sicuramente la questione andiamo a votare, facciamo cadere il governo, togliamo la fiducia, verrà fuori tante volte.